Appuntamento speciale con il Mazzafrusto, quello di questa settimana ovviamente dedicato al quartiere vincitore, al quartiere di Porta Santo Spirito che ci ospita qui nei giardini del Porcinai, luogo che il quartiere, dobbiamo dirlo, ha fatto anche rivivere e lo ha fatto tornare, quantomeno per certi periodi dell'anno, in una situazione ben più decorosa di quella che invece è purtroppo costretto a vivere in altri periodi. Non abbiamo fatto, e comincio con Marco Geppetti, la tradizionale trasmissione dei vincitori perché lui è nato in onda del processo con i quattro capitani, il sindaco e il presidente dell'istituzione, tu ovviamente ripresenti in quanto capitano, alla fine cosa ti ha lasciato questa discussione con i tuoi colleghi? Per noi il fatto di essere lì è una cosa positiva che si viene da un'ulteriore vittoria, quindi era positivo per me la serata perché il morale era alto. Il mio mandato al quartiere è quello di raggiungere risultati, portare la lanciadora a casa e chiacchierare poco, è la cosa che mi riesce meglio. Per ora quindi lo stai rispettando a piedi? Sì, è una cosa che è nel mio DNA, quindi sono contento del ruolo che mi starà affidato e per questo ora vado avanti, così almeno ti ringrazio chi è giusto che vada ringraziato. Quello che riusciamo a fare sicuramente è merito di questi due fenomeni, è merito di Gianni Martino che è il numero uno in assoluto, il consiglio che ci permette di avere una scuderia efficiente con dei ragazzi che lavorano tutto l'anno è una scuola tecnica efficiente che dà dei risultati, anche se sono le solite frasi dette, però è così. Se si fa quello che si è fatto sabato in piazza sicuramente è dovuto a tutta questa organizzazione. Però tu sei di poche parole, però la definizione ragazzi terribili appartiene a te, è ormai entrata nella storia. Sai, fu l'esordio nel 2012 e per noi era una situazione particolare, l'esordio per me, l'esordio per i ragazzi, è un'esplosione che fu devastante, sicuramente c'era dietro un qualcosa che a distanza di 5 anni, ancora ad oggi siamo qui a festeggiare, quindi era un modo per iniziare forse con il piede giusto. Mi venne spontaneo, i ragazzi terribili perché per me erano ragazzi e ancora oggi lo sono, fermo le stand che sono passati gli anni. Nel frattempo hanno portato 8 giostri al quartiere, quindi hanno fatto più che il loro dovere. Ecco, per il rettore Ezio Gori invece, la prima riflessione è vedendo l'albodoro del quartiere, ma vedendo anche la classifica delle vittorie dei rettori. Insomma, io penso che tu a questo punto un pensierino del diventare il rettore più vittorioso della storia della giostra potresti tranquillamente farlo. Ti dico la verità, io l'albodoro non lo guardo, quando vado su vedo che c'è tante volte scritto il nome Gori Ezio, però non mi metto a contarle, non so chi ne possa aver vinte più di me. Io vivo la giostra volta per volta, ogni volta che vado in piazza ci vado con la voglia e la grinta di vincere, la stessa voglia e grinta che c'hanno i ragazzi, che c'hanno il capitano, che c'hanno il capitano, che c'hanno il capitano, e forse ci dà un grosso contributo per il raggiungimento di questi risultati. C'è il fatto che tu sia arrivato al bondo della giostra in maniera così particolare, nonostante che io ti abbia intervistato tante volte, questa è una questione che non abbiamo affrontato praticamente mai, però stasera lo voglio fare perché mi sento di farlo, cioè di parlare di Edo, che per te era un fratello, ma vorrei dirlo, era un fratello anche per me e per tanti, credo, delle persone che sono qui al quartiere. Oggi forse pensare a lui, alla luce di questi risultati, ha anche un sapore particolare. Io per Edo sono sempre stato un problema, fin da quando eravamo ragazzi, era quello che magari senza patente faceva un incidente, telefonava a casa, gli dicevo Edo vieni te, che io non c'ho la patente, testa in macchina, io andavo a casa a mangiare e tante altre bischerate che si fanno a Greta lì. E credo che ora, se mi può vedere, penso che sia contento e soddisfatto del lavoro che sto facendo per il suo quartiere, perché lui amava il quartiere come la sua famiglia e questo qui mi rende ancora più orgoglioso di quello che stiamo facendo tutti insieme, io con i ragazzi e con tutto il quartiere dietro. C'è qualcosa che può rappresentare anche, tra virgolette, un'arma in più, di venire da un'altra storia? Io ho cercato di mettere in campo quelle idee che avevo in quel momento, che eravamo in un quartiere sotto l'aspetto tecnico annientato, confrontandomi con dei consiglieri che all'interno del quartiere, uno dei quali è Paolo Bertini, che è la prima persona che la quale contattai nel momento in cui mi fu proposto di entrare nel quartiere, che io non conoscevo, a parte qualche amicizia che avevo, ma io venivo al quartiere soltanto... no, non venivo al quartiere, facevo parte della scuola di calcetto del Santo Spirito non frequentando il quartiere. Mi telefonava al presidente, che a tempo era Marco Ceppetti, lui era il presidente e io ero il capitano. E mi dicevano si gioca alla palestra di Pescaiola alle nove, io andavo alla palestra di Pescaiola, giocavo al pallone, si mangiava una pizza, non al circolo, da un'altra parte e poi tornavo a casa. Questo era il mio vivere al quartiere. Mi resi conto che insomma come squadra tecnica, come potenziale in piazza, eravamo all'ultimo posto e da lì mi venne in mente, confrontando con gli altri consiglieri, di iniziare un progetto che potesse anticipare magari un ricambio generazionale in piazza. E per poter iniziare questo progetto bisognava adottarsi di una scuderia funzionale e mettere al suo interno un buon preparatore. Al tempo c'era libero Martino Gianni e devo dire il contatto con Martino Gianni me lo creò l'amico Francesco Ciarti. Incontrai Martino Gianni che io non conoscevo e ti dico andai all'incontro molto emozionato a un pranzo di lavoro lì a Badia Alpino e mentre pranzammo io gli dissi le mie idee e lui mi diceva le sue, insomma le cose collimavano e tornai al quartiere che non c'eravamo stretti la mano però gli dissi per me Martino da domani, da oggi fa parte del gruppo di Santo Spirito e da lì è partito tutto il progetto che poi ci sta dando queste straordinarie soddisfazioni. Ecco sicuramente il rapporto con Martino Gianni è un rapporto particolare, no? Il mondo della giosta nel suo complesso dà per scontato che questo sia l'ultimo anno di Martino Gianni a Porta Santo Spirito o forse lo auspica, dico io, la sensazione tua che ovviamente è fondata qual è? Io con Martino nel momento che si arriva alla scadenza del contratto vado a trovarlo in fabbrica, prendiamo un caffè, fumiamo quattro cigarette insieme, riprogrammiamo i prossimi tre anni, ci alziamo, ci stringiamo la mano, una pacca sulla spalla e andiamo avanti per i prossimi tre anni. Per ora è stato sempre così e credo che anche dopo la giosta di settembre avverrà la stessa cosa, magari dopo un'altra vittoria. Marco, invece il fatto che appunto si siano visti in giosta, palesemente, tra l'altro con due quartieri con i figuranti mescolati che forse era molto, che non si rivedeva, il modo, diciamo così, con il quale si affronta questo strapotere di santo spirito, in qualche modo ti preoccupa, pensi che comunque, le cose che hai detto lunedì, cioè ribadire i valori della manifestazione, i valori cavallereschi, il fatto che il migliore è giusto che vinca come in ogni altra manifestazione della vita, sia la stata da percorrere. Ma io lunedì sono stato chiaro, ho espresso un concetto che è mio, ma penso di molti ad Arezzo, insomma chi ama la giostra la pensa anche in quel modo lì, se poi si vuole dire che la giostra è bella se c'è uno schiaffo, secondo me è una cavolata, e non va fatto, dopo io non è che sono uno stinco di santo, io ho 50 anni, ne ho fatte di cotte e di crude, quindi anche dal mio altare parlare così è anche troppo semplice, però capito, non è quella la giostra e le carriere che si devono fare, se si fa dei palagoni con altre manifestazioni, che non è giusto farle, però ci sono, a volte non vola una mosca e si torna al discorso, se non ci sono regole, se non vengono rispettate le regole, non ci sono sanzioni, ognuno si sente autorizzato a fare quello che gli pare. Dopo questa è un'opinione, non è che quello che dico io è giusto o meno, è soltanto la mia opinione di uno che è nella giostra da tanti anni. E questo con Gian Maria Scortecci e Delia ci cerca proprio partendo da questo aspetto, perché alla fine si corrono anche dei rischi, rischi anche per la salute del cavallo, quello che può succedere. È vero che alla giostra del Saraceno non è successo mai niente, se pensiamo ad esempio che l'ultima edizione della Quintana di Foligno è morto un cavallo, una manifestazione che credo ha al massimo del rispetto nei confronti dei cavalli, però è successo un fatto che da noi fortunatamente non è mai successo. Però questo non è un buon motivo per correre questi rischi, Gian Maria. Sì, lì succede perché c'è il fatto della velocità che noi non abbiamo, ci sono le curve che noi non abbiamo, quindi l'infortunio ai cavalli sono più frequenti. Io capisco anche che è difficile trovare un punto di equilibrio tra la tensione e quindi anche il naturale diritto dei figuranti di ricoprire il loro ruolo, che è un ruolo attivo in piazza, sono sulla lizza, non ci sono recinzioni, entran dentro, ritardano i tempi, c'è sempre delle strategie e quelle sono giuste, è giusto che ci sia. Però, come giustamente diceva il Capitano, il mondo è cambiato, c'è una sensibilità nei confronti degli animali, per fortuna dico anche maggiore. Probabilmente chi ha lo scettro in mano deve giudicare se tali comportamenti, oltre al fatto di rovinare una carriera che comunque anche rispetto a qualche decenni anni fa è il frutto di 12 mesi di lavoro, perché se noi siamo professionisti a questo punto ce lo dovete anche riconoscere da quel punto di vista lì, che abbiamo anche un po' il diritto di correre la giostra come si deve. E poi trovare quella sintesi, cioè quel punto di equilibrio e decidere quando è troppo e quando è poco. Capisco che non è facile perché sono cose poco codificabili, però è ovvio, io mi metto nei panni anche degli altri quartieri, e nelle ultime ciostre, insomma, capisco delle volte che ci possa essere la volontà di cercare un disperato tentativo di arginare quello che facciamo. Però il rispetto per i cavalli credo che sia fondamentale quella educazione. Ovviamente tu hai vissuto in prima persona questo episodio, è sembrato quasi che quando la prima volta Martino ti ha riportato sotto le logge quasi ve l'aspettavate, no? Che sarebbe successo questa cosa e quindi eravate pronti anche a correre immediatamente ai ripari. Però poi anche ovviamente la disputa della carriera è stata particolarmente complicata, diciamo. Ma sì, sapevamo che nel caso Gian Maria avesse aperto la piazza con il 5, non ci sarebbero stati grossi riguardi nei miei confronti e soprattutto perché poi gli altri quartieri non hanno pareggiato il punto di Gian Maria, quindi è comprensibile fino a un certo punto, ma è comprensibile che gli altri quartieri abbiano avuto un attimino di paura nel vedermi scendere al pozzo sapendo che avrei potuto chiudere la giostra lì, salvo il caso di lanci spezzate. Però ci eravamo preparati, insomma, eravamo consapevoli di questa eventualità e quindi abbiamo preso tutto con molta serenità. Sono cose che poi in quei momenti possono anche dare un pizzico di carica in più, di cattiveria in più e niente. Poi la carriera è andata come è andata, certo è stata un po' una carriera difficile perché partire largo, essere ancora spostato verso la sella destra, vedersi il buratto che ora come ci arrivo. Quindi insomma ho dovuto stringere parecchio, non mi sono accorto di quanto avevo stretto, pensavo di aver stretto meno, ma poi per fortuna il cico ha più buon senso di me. Non si può suicidare lì, non crede che possa dare una testata nel tappellone. Però secondo me se sono arrivato felice è perché ne avevo bisogno evidentemente, perché da largo in quel modo riuscire a incannare il tiro prima dell'impatto è stato tutto molto più breve, è stato molto più breve il tempo di mira. Per cui se sono arrivato sotto in quel modo era evidentemente perché nel momento mi sono sentito di dover arrivare là. Poi per fortuna il cico ha un po' di buon senso e se ne è andato via. In effetti a certo punto è proprio dritto al buratto. Sì, io infatti per scherzare, anche poi per smorzare un po' questo rischio che noi si percepiva con l'Unione della Sicurezza, lì mancava soltanto che tu a metà carriera urlassi all'Akbar e che era veramente da kamikaze. Però è così, questo è un fenomeno. Sì, non c'è niente, fa parte delle sue caratteristiche. Vogliamo parlare di questi due binomi particolari che si sono creati, no Gianmaria? Il tuo con Napoleone, ma io alla fine definisco un binome anche quello di Elia con il cico. Io ho detto che il cico è un po' un eroe per caso, però tutto sommato è comunque un eroe perché ha corso tre gioste, l'ha vinto tutte e tre. Ecco, in sella Napoleone, ovviamente tu puoi fare cinque con qualsiasi cavallo, puoi correre con qualsiasi cavallo, l'anno scorso le difficoltà l'hai dimostrato, però sembra realmente che questo cavallo ti dia una serenità particolare. Senti, Napoleone è il cavallo che ci vuole per fare queste giostre qui, quelle che stiamo facendo negli ultimi anni, perché io sarò sempre grato a lui e a chi me l'ha dato, perché è un cavallo che ti riesce, che ti permette soltanto di perzare alla partenza. Una volta risolto il problema partenza, io a quel punto non faccio nient'altro che guardare il tabellone, guardare la punta della lancia e avvicinarmi il più possibile al punto rosso. E questa è una fortuna, che io ho montato a cavalli un po' più difficili, è lì soltanto come preparazione della carriera, ti devi ricordare almeno cinque o sei cose e devi sperare che tutte queste cinque o sei cose tu le faccia bene, che il cavallo le recepisca per far sì di poter far cinque. Invece con lui tutto questo non c'è e ti dà anche una tranquillità che spero di trovare anche in altri cavalli in futuro. Invece, Elia, ovviamente nel rammarico di non aver potuto portare in piazza Babydoll, questo rapporto con il Cico comunque, diciamo, è un rapporto che come puoi considerarlo? A cavallo che ovviamente, come dicevamo prima, come abbiamo detto spesso anche le giornate delle prove, veniva da un anno nel quale aveva pensato tutt'altro che alla giostra, si vedeva che insomma verso il buratto non ci andava volentieri, è stata anche, diciamo, una fortuna, visto quello che abbiamo prima raccontato. Ma lui è un cavallo generoso, è un cavallo generoso che poi nel momento in cui serve, tu ti fai sentire che ti serve quel pizzico in più, poi te lo concede. Nelle prove abbiamo provato tante cose differenti, perché giustamente quando tu prendi un cavallo a 15 giorni neanche dalla giostra, tu devi provare, cioè non devi, non puoi stare a far tante finezze tecniche, devi capire come fare, trovare il modo più adatto nel meno tempo possibile. E ovviamente quella precisione chirurgica che posso avere con Babydoll, col Cico non c'è, non c'è stata in tutta la settimana delle prove. complice il fatto che abbiamo provato, per quello che dicevamo prima, comunque per il fattore disturbi, abbiamo provato delle carriere leggermente differenti, abbiamo provato un'impostazione un po' differente, perché probabilmente l'avevo capito anch'io che sarei finito un po' sotto. E quindi anche per tenere la lancia, per diversi aspetti tecnici, abbiamo fatto le prove che poi sono venute fuori. però è stato un cavallo gentile, perché si è avvicinato al buratto in una settimana neanche, quello che io ho chiesto mi ha dato, poi non ha quella tecnica che ha un cavallo che fa tutto l'anno quella cosa lì. Però c'è questo feeling, diciamo, e è piacevole. Nei momenti di crisi so che posso contare su un buon amico. La scappatella, il cico è l'amante, se la bevi è la sua moglie, il cico è l'amante per la sua scappatella. A questo proposito, Marco, tu quando senti gli addetti ai lavori, non me, che commentano durante la settimana e dicono che quest'anno le prove di santo spirito sono state un po' sotto tono, ad esempio Elia è l'unico che ha tirato nel giorno della bollatura, nel quarto d'ora della bollatura, che, diciamo, se uno dovesse fare il mental coach anziché il capitano potrebbe essere interpretato come un segno di debolezza rispetto agli altri. Un tuo collega mi ha chiesto perché voi provate tanto. Noi si prova perché si chiamano prove e c'è la necessità, a seconda dei soggetti, di provare più o meno. Noi abbiamo fatto quello che le prove dicevano. Fortunatamente gli altri non l'hanno fatto, la differenza è stata lì, perché la nostra giostra era sul 10, e dice semplice, no, fare 5 è semplice, non è così. Era sul 10, eravamo primi e ci è andata bene in quel senso lì, che abbiamo fatto 10, abbiamo messo tutti in corsa e la giostra è finita. Però allo stesso tempo le prove servono apposta e secondo me andrebbero anche strutturate in maniera diversa per dare forse al pubblico una sensazione diversa in tribuna, forse a noi la possibilità di lavorare i cavalli meno esperti. Quindi la mezz'ora di prove così come è strutturata è forse il caso di rivederla, può darsi di sì. Tra l'altro proprio Giambania quando ci siamo visti all'ultimo giorno di prove avevi manifestato un po' anche una certa stanchezza, diciamo, arrivare al quinto giorno in una situazione come quest'anno che il tempo ha assistito, e quindi le sessioni si sono svolte tutte regolarmente, alla fine diventa anche una fatica. Io ero anche stanco perché purtroppo abbiamo avuto un po' di sfortuna con due cavalli di quelli che montavo io, uno l'ho portato solo un giorno e l'altro non l'abbiamo potuto portare tutta la settimana e quindi mi sono trovato molto spesso a montare Napoleone. E fare quattro giorni di prove con il solito cavallo e peraltro un cavallo esperto, non dico che è noioso, però è molto stancante. Di per sé poi i cinque giorni sono molto stancanti anche perché adesso anche intorno alle prove c'è molto più interesse e giustamente anche i quartieristi vogliono vedere il suo quartiere provare bene anche per preparare la festa alla giostra, per avvicinarsi alla giostra con un certo tipo di clima. Quindi io faccio anche uno sforzo a essere sempre concentrato, cioè mantenere lo stesso livello di concentrazione, quindi simulare una giostra tutte le sere per cinque volte di fila è stancante. Poi considerando che noi attacchiamo il pomeriggio presto alle scuderie, quindi stiamo dodici ore praticamente a cavallo e cinque giorni sono tanti. Sono tanti, poi non è il mio mestiere trovare una formula, però io le soffro fisicamente, sono molto stancanti. A me invece mi ha fatto comodo a prendere cavalli su settimane prima, se c'era un quarto d'ora magari lo faceva anche un pochino meglio al cinque poi, perché io ero proprio convinto, mi guardo indietro di tutte queste facce. Ci spieghi una cosa che dicevamo prima fuori mondo, questa storia del frigorifero, cioè il luogo dove tu sotto le logge segui, o meglio, ti estrani da quello che ho capito, dall'andamento della giostra, a parte la carriera di Gian Maria. Sì, ma è stato un consiglio che mi ha andato per prevenire danni, capito? Perché non è che ho bisogno di estragnarmi della giostra, non è neanche una scaramazia, è solo che, capito, una volta che sono lì, io guardo il tiro di Gian Maria, poi mi metto a guardare alla terra, sento l'araldo che parla, quando al mio momento salga a cavallo e poi mi rimetto lì. Figurivo per calmare i bollenti spiti possiamo... Sì, poi a me fa morire vederlo lì, che è serio come un cartello, che guarda in terra, un punto fisso per 40 minuti, poi sale a cavallo, mette il sorriso, va giù e io quando li vedo con la faccia e poi quando vedo che qualcuno gli dà anche un po' noia, un disturbo, io li so sicuro che allora il punto viene perché si carica troppo. Però insomma, magari anche correre qualche carriera più tranquillo, visto che le ultime un pochino sono state così e così, non mi farebbe proprio specie e specie. Bene, chiudiamo questa chiacchierata che abbiamo fatto qui nei giardini, poi ci trasferiremo invece all'interno dove è al lavoro la redazione delle bastioni che deve fare anch'essa gli straordinari per il numero della vittoria più il numero che esce tradizionalmente in vista della giostra di settembre. Grazie allora per il momento, grazie al redettore e al capitale dei due giostratori, anche al quartiere, ma al quartiere continueremo a viverlo vedendo un altro aspetto e ovviamente un ultimo sguardo anche alla lancia che il quartiere di Porta Santo Spirito ha conquistato proprio in occasione della giostra di sabato 17 giugno. E allora come preannunciato è al lavoro la redazione delle bastioni, il giornale del quartiere di Porta Santo Spirito, il coordinatore di redazione Paolo Nocentini che deve fare un gran lavoro perché si sa che il direttore è un vagabondo e quindi il coordinatore deve fare un po' tutto perché c'è da fare ovviamente un doppio numero. Sì, c'è da fare un doppio numero, cominciamo stasera a provare a realizzare questo numero a colori che sarà pronto per la scena della vittoria e dopodiché c'è da preparare subito quello di settembre che uscirà a fine agosto. Tra l'altro il bastione che in questo periodo ha avuto anche una svolta sia grafica che nel numero delle pagine, quindi il quartiere ha deciso di rilanciare anche sul piano dell'informazione non soltanto verso i suoi soci ma più complessivamente verso il mondo della giostra. Sì, l'obiettivo quello del consiglio direttivo, del rettore e di tutto il consiglio è quello di dare uno spessore, un livello a questo giornale che da tantissimi anni che è in città di farlo non solo organo ufficiale del quartiere ma anche diciamo punto di riferimento di tutto il mondo della giostra. Non dico che ci stiamo riuscendo però stiamo lavorando per far sì che i contenuti del giornale siano sempre migliori attraverso il contributo anche esterno di personaggi che scrivono di giostra a tutto tondo. E fra le novità c'è anche il fatto che oltre all'edizione cartacea il bastione diventa uno strumento anche online grazie al lavoro ovviamente di tutta la redazione ma in particolare di Daniele Farzini. È un lavoro collettivo, non è ovviamente solo un lavoro mio personale il quartiere e la redazione del bastione ha ritenuto che fosse necessario in tempi in cui siamo tutti connessi, in cui la multimedialità fa parte del nostro quotidiano anche appunto fare una versione online del bastione per dare un'informazione a 360 gradi poi come vogliamo riprendere anche un po' il filo del giornale cartaceo sul mondo della giostra. Quindi avere una tempestività e dei contenuti anche diversi perché ovviamente tramite internet possiamo dare una notizia nell'immediato possiamo pubblicare un video, un'immagine cosa che con il giornale di carta è un pochino più complicato. Cerchiamo di fotografare e di analizzare anche degli aspetti più particolari e approfondire un po' tutte quelle che sono le tematiche del nostro quartiere ma appunto anche del resto del mondo della giostra. Bene, allora grazie, buon lavoro, salutatemi il direttore quando lo vedete e noi ci ritroviamo venerdì prossimo.